ciao a tutti e bentornati allora ci sono novità di coppia in vista infatti se prima i video all erano presentati solamente da chiara ora ne abbiamo uno presentato dalla coppia al completo dice ammazze che novità ebbè ma questo passa il convento non è che colpa mia la novità in questione porta per titolo video all di coppia molto bello cioè breve e intenso come titolo vabbè andiamo a vedere cosa è successo va il video inizia con i due super youtuber milanesi seduti sul divano con lei che si impone subito sulla scena mostrando i capelli i capelli che ha da poco tinti ora il problema quello è che la stiratura inizia a dare i primi scedimenti perché perché alle punte i suoi capelli appaiono abbastanza riccioluti e anche la stiratura di davide non è che sia resistita più di tanto perché perché anche lui cioè praticamente a vederlo così sembra che c'è un gatto addormentato in testa ma sono dettagli in cui non dobbiamo fossilizzarci perché lei per questo video l'ha indossato un bellissimo maioncino di colore nero condisegnati sopra tutti gli orsetti del cuore una cosa sobria insomma e andiamo quindi col primo articolo che sono due funk pop ispirate a squid game si prevede quindi un haul di tutte cose utilissime poi abbiamo per lui un marsupio di colore nero con le scritte bianche a contrasto jordan e lei che lo guarda schifatissima un po di delusione per questo articolo perché davide immaginava ci fossero più tasche e poi abbiamo gli acquisti effettuati da footlooker per chiara una maglietta a maniche corte della adidas color senape bordata di bianco mentre per lui per davide una giacca a vento di colore nero dei new york yankee si passa agli acquisti pucciosi si va di gnomi il primo che ci presenta ha una lunga barba grigia il cappello che gli copre gli occhi e gli viene fuori solamente il naso che davide trova sia fatto malissimo perché perché a guardarlo gli sembra un ognomo uscito da da una rissa di gnomi ha dimenticato di dire che l'ognomo in questione ha in mano una scritta la scritta bu ecco il secondo gnomo acquistato invece ha il cappellino arancione la barba lunga e bianca e le alucce sataniche nere li mostra entrambi e sì effettivamente si fanno cagare poi abbiamo una deconazione per halloween a forma di scheletrino e pare che delle stesse dimensioni ci fosse pure la versione con frankenstein che comunque lei non ha preso ma sicuramente tornerà a prendere e non avevamo dubbi poi per finire a conclusione di questo meraviglioso haul hanno preso due piattini in plastica con disegnati sul fondo due maxi hamburger e chiara dice questi li useremo quando faremo i mukbang ci metteremo dentro gli hamburger che faccio io quelli in casa ed arriva la genialata di davide che il rompe sulla scena dicendo che magari in quei piatti potranno mettere anche altro non solo di hamburger namo bene questo comunque era l'ultimo articolo di questo breve ma intenso video all di coppia quindi i due piccioncini ci rimostrano un po a modi riassunto tutto quello che hanno acquistato si augurano che questo video blog vi abbia tenuto compagnia che vi sia piaciuto iscrivetevi a tutti i loro canali e ci danno appuntamento al prossimo contenuto questo vuol dire che il loro video si conclude qui e si conclude anche il mio breve video commento a me non resta che augurarvi buona continuazione di serata darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto e nel frattempo un bacio a tutti da gossi